ok poi va a prendere dei quadri che dovremmo metterli qua in 4 per 4 quindi quattro blocchi vediamo come si fanno ok stick e lana andiamo subito a prendere la lana e gli stick se non mi sbaglio ce li ho allora lana se non ho gli stick dovrò farli ma mi sa che ce li ho allora legno 5 fine no non mi bastano dovrò fare il legno andiamo a farmare il legno ok 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 andiamo a fare gli stick 33 binding ok e andiamo a farli in 2 per 2 no cambiamo però ok giusto sì perfetto ragazzi poi mette dei fiorellini qua e gli team frame come si fanno item ok pelle e stick dormiamo un attimo andiamo andiamo a prendere la pelle e i fiorellini andiamo a prendere i fiorellini allora vediamo 3 di pelle e basta poppy poppy ah ecco mi sembrava strano che avessi solamente 3 di pelle ecco qui e quindi i tem i tem perfetto posiamo la pelle che tanto adesso non mi serve ok adesso mettiamo i fiorellini qui in questo modo gli temer frame perfetto ok e adesso ci servono i banner e il loom il loom ce l'ho di là andiamo a vedere come si fa il banner che dobbiamo fare la scritta cinema banner come si fa lo stick e la lana white a noi ci servono tre ma ne servono altri tre di white oh chiudi chiudi sono questi qua se ne scappano perfetto e questi li abbiamo poi ci serve colorante nero e un colorante nero non ce l'ho cavoli devo andare alla ricerca di squid o fa fammi vedere si mi serve il colorante nero ragazzi andiamo alla ricerca ops alla eccala mi serve il colorante nero vediamo se riusciamo a trovare dei polipi e eccolo non non ve l'ha dato il colorante cacchio non ho guardato cavoli ma eccolo tre vediamo di cercare altri defini ecco la uno squid poi dovrò sistemare in un secondo momento anche questa zona degli spawn e di fare delle pixel art vieni qua dove vai non vuole Dichi che si è preso il delfino Sto bastardo Ok andiamo a fare Oh Dammi la spada Andiamo nel loom Mettiamo il banner Poi Inchiostro Vabbè Inksank Inchiostro nero E Dobbiamo prendere Prima questo Poi Questo qui Ragazzi Poi Questo qui E abbiamo La C Andiamo a dormire Che è notte Abbiamo la C Di cinema Poi Andiamo a fare La I Che la I Si mette Il bianco Questo Poi Poi Questo Si va Riprendere Si mette Qua E si va E si va a fare Da quest'altra parte E si prende Poi lo si va Ah ho finito Il colorante Andiamo alla ricerca di squid Ok Andiamo a mettere Questo Questo Ah Ah C Che ne Andiamo a fare La E Ne C Mamma mia Quanto dura Andare a cercare Gli squid Ragazzi Ok Andiamo a fare Adesso La M Adesso serve anche il colorante bianco no il bianco ecco qua allora il bianco è questo giusto? si poi si va con il nero ecco la m ecco la m ragazzi e poi la ecco la m ed eccola ragazzi mamma mia per fare questa scritta cinema abbiamo proprio dannato ragazzi comunque l'abbiamo completata e adesso e adesso non ci resta che andare ad inserirla mamma mia ragazzi per fare questo colorante nero che c'è voluto che c'è voluto no ecco pam 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 no cavoli cavoli ne manca non è simmetrico ragazzi non è simmetrico che c'è voluto e adesso cosa facciamo no no cavoli cavoli per con l'annesso simmetrico ragazzi o o dovrei spostare la scritta di qua oppure uno di lasciarlo bianco però se a sinistro o a destra oppure di farlo uno più lungo e io direi di farlo uno più lungo quindi in poche parole di fare ragazzi e andiamo a prendere adesso aggiustiamo subito il tutto dammi iron adesso ti faccio vedere io poi ecco qua pam 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 e qua dobbiamo un attimo salire sopra e fare in questo modo ragazzi sì stiamo parlando di uno giusto sì adesso è simmetrico perfetto sì adesso è simmetrico abbiamo aggiustato perfettissimo no 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 Grazie per la visione!